Torna a Napoli il Pizza Village. L'undicesima edizione si terrà dal 16 al 25 giugno e dopo gli anni di successo a lungomare l'evento ritorna come in sua origine alla mostra d'oltremare. Alla Kermess, che lo scorso anno ha visto la presenza di oltre 1,2 milioni di visitatori, ci saranno 34 stand pronti a sfornare margherite, marinare e la propria specialità. Durante la manifestazione si terrà anche il campionato mondiale del pizzaiolo Trofeo Caputo. Ascoltiamo Alessandro Marinacci tra gli organizzatori del Pizza Village. Al nastro di partenza per la undicesima edizione del Napoli Pizza Village che torna quest'anno dal 16 al 25 giugno. Siamo in mostra d'oltremare. Un grande ritorno qui tutto è nato nel 2011. Si rinnova il format che tutti conosciamo, quindi l'accesso al villaggio con la degustazione di menù pizza e con i grandi contenuti, soprattutto quelli musicali, di spettacolo, con il grande palco targato RTL 125. A lungomare il Pizza Village ha registrato numeri importantissimi socialmente dopo il Covid. Per l'edizione alla mostra d'oltremare siete fiduciosi. Come attrarre cittadini e turisti? Assolutamente fiduciosi perché già da settimane alla notizia, all'annuncio della prossima edizione del Pizza Village si è scatenato davvero l'inferno, come si suol dire. Quindi siamo assolutamente pronti ad accogliere centinaia di migliaia di napoletani e turisti che in queste settimane ormai sempre più affollano la meravigliosa Napoli. A commentare il passaggio del Pizza Village dal lungomare alla mostra d'oltremare ed il valore dell'iniziativa è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Un trasferimento che è anche legato ai grandi numeri di Pizza Village e anche alla vocazione della mostra d'oltremare, che è un luogo ideale per fare grandi iniziative di intrattenimento. Il Pizza Village oramai è una realtà importante di dimensione nazionale che attrae centinaia di migliaia di persone. Nella mostra d'oltremare troverà una location dal mio punto di vista molto favorevole, con servizi, accessibilità. Sarà una bellissima edizione che aiuterà ancora di più alla crescita di questo evento, che è un evento molto importante per la città. Molti nomi che saliranno sul palco del Pizza Village alla mostra d'oltremare, tra questi Gigi D'Alessio, Angelina Mango, Wax, The Colors, Mr. Rain e San Giovanni, LDA e H7, Boroboro, Aiello, Gabbani e Leo Gasman. Previsti anche live show di artisti campani come Tullio De Piscopo, Andrea Sannino ed altri ancora direttore artistico Gianni Simioli. Una grande vetrina per Napoli quest'anno, una location ancora più bella, certo nulla può battere il nostro golfo, però la mostra d'oltremare è veramente uno spazio che dovremmo riscoprire tutti e il Pizza Village darà un grandissimo contributo affinché questo accada.